Ciao a tutti, sono qua per parlarvi oggi dell'ultimo libro che ho letto, Dracul, di Dacre Stoker e J.D. Barker, libro di vampiri dal titolo. Dunque, citando il sommo Stephen King che disse che J.K. Rowling parlava nel suo Harry Potter della crescita di un ragazzo e un uomo, mentre Twilight è alla fine la storia di come trovarsi un ragazzo o una ragazza, qua non si parla di vampiri patinati, qua si parla di vampiri storici, la mitologia, ma soprattutto si parte dal primo famoso, il famoso Dracula di Stoker, Bram Stoker, e qua un suo discendente, uno dei due autori, e ci parla di Dracula in un modo diverso, come se Bram Stoker non avesse inventato nulla, ma in realtà ci avesse narrato il suo diario nel suo romanzo. Quindi si arriva alla fine, dopo aver avuto brividi, veri brividi di paura, domandandoci alla fine quanto Bram Stoker ci ha rivelato e se alla fine questo male che noi individuiamo, raffiguriamo nel conte Dracula, si effettivamente era inventato, o c'è qualcosa di più sotto. Ve lo consiglio veramente, primo libro di vampiri dopo tanto tempo che mi ha soddisfatto. Dracula, Dacre Stoker e J.D. Barker. Buona lettura!